L'Istituto per il teatro e melodramma è il luogo di conservazione e valorizzazione della memoria dello spettacolo e del teatro, arte effimera per sua stessa natura. L'Istituto promuove la ricerca scientifica e la divulgazione della storia dello spettacolo, della storia del teatro e dell'attore, del melodramma e della danza, della scenografia e dell'iconografia teatrale e musicale. Svolge inoltre una costante attività di ricerca storica, di conservazione e valorizzazione dei propri fondi archivistici attraverso pubblicazioni, incontri e mostre temporanee. L'Istituto per il teatro e melodramma è stato fondato nel 2007 con il nome di Centro Studi per la ricerca documentale sul teatro e melodramma europeo e quindi quest'anno festeggia il suo decennale. Studi per la ricerca Studi per la ricerca Studi per la ricerca alamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.